Costumi, presi, scarpe, dieci a spillo, nove stibali, otto sandri... È tutto lì? Per oggi sì. Pratica e molto elegante. Ragazze, siete ancora lì? Il pullman per le spiagge oscure è qui! Non mi viene voglia di ballare. Le mie ballerine me le ero dimenticate. Spero che vi sia avanzato dello spazio per le uniformi da Terror Leading. Sta calma, maestà. Le spiagge oscure sono più che solo Terror Leading. Già, la spiaggia nord è super fantastica, c'è un grande lago, tanti giochi, mille amici. Peccato che passeremo tutto il nostro tempo sulla spiaggia sud nell'Accademia di Terror Leading. Per tutto il tempo? Ogni anno l'Accademia di Terror Leading delle spiagge oscure assegna il bastone della vittoria alla squadra migliore. E ogni volta quella stessa squadra vince sempre le mostro finali. Coincidenza? Difficile. Noi dobbiamo vincere assolutamente quel bastone. Sembra che un tempo la Monster High si aggiudicasse sempre il bastone della vittoria, quando prima eravamo... Brava, ciao, pescioline. Non vedo l'ora che arrivi la pausa vacanza delle spiagge scure, ho voglia di tuffarmi. Torni al tuo elemento naturale, eh? No, io sono d'acqua salata, Jill d'acqua dolce, ma non provate a pensare che non me la possa cavare. Che ne dite di una canzoncina? Amore! Mi sto solo scaldando. Come potrebbe migliorare questa giornata? Ah, eccomi! Se già un solo Cloud Wolf è bello, che ne dite di due? Tre, quattro, cinque! Adoro le spiagge oscure! Ehi, è il mio sogno, giusto? Frankie, la mia caviglia è rotta. Adesso sarei tu a dover guidare la nostra squadra al posto mio. Io? Puoi farcela. Tutte noi riponiamo in te una fiducia assoluta. Capitano. Non riesce a respirare. Gli serve dell'acqua. Adesso che possiedo il bastone della vittoria, nulla può fermarmi. Niente! Nessuno! Cleo, svegliati, siamo arrivati! Signore, benvenute alle spiagge oscure! È ancora più bella di come me la immaginavo. Ah! Rifrescate! Potrei anche abituarmi ci troppo. Finalmente otterremo il rispetto, il riconoscimento e la glorificazione che mi appartengono di diritto. Mr. Hack, i nostri bagagli. I vostri alloggi si trovano in una zona un tantino diversa da questa. Squadra Jolly! Andiamo. Ma non è così male. È una topaia. L'hai detto, sorella. Non è proprio come il Sam Morris. Mi spieghi perché noi stiamo qui mentre le altre squadre stanno in bungalow di lusso. Scary Murphy è una leggenda del terror leading. Deve avere le sue ragioni. Così sembra, sorella? Scary Murphy! E così voi sareste la squadra Jolly. Non siete un granché, eh, piorellini? Beh, stavamo proprio... Fate silenzio! Già non ci siamo. La tua postura è davvero pessima. La tua posa è proprio terribile. Muoversi, signorine! Veloci, veloci, veloci! Come squadra Jolly avrete molto da dimostrare, Tortorella. Cosa impariamo prima? Pauramidi avanzati? Nuovi passi intricati? Ho in mente qualcosa di un po' più intenso per voi, fanciulle. Non ci posso credere che dobbiamo cucinare per tutte le altre squadre. Sono certa che Scary Murphy sa quello che sta facendo. Adesso dobbiamo falciare il prato? Questa tizia mi sta facendo saltare i nervi! Scary Murphy è la più grande maestra di terror leading. Se vi dice che dovete tagliare l'erba, voi rispondete. A che altezza? Oh, adesso sì che si fa su, serio. Non me lo dire. Niente da fare se non star ferme a sognare. Non posso credere che abbiamo sprecato un giorno intero a fare dei lavoretti stupidi per Scary Murphy. Cosa aveva a che fare tutta quella fatica con il terror leading? Non lo saprei dire, ragazze, ma credo molto in Scary Murphy. Sì, punto! Non c'è male per una bella ragazza di mare. Grazie, Jill. Non sei male neanche tu per uno di acqua dolce. Ho detto alle altre ragazze che credo che Scary Murphy abbia un piano. Ma adesso non ne sono più sicura. Care lei, che cosa stai facendo qui? Alle spiagge scure vanno tutte le gatte e gattine di classe per le vacanze di primavera. La spiaggia sud è solo per le squadre di terror leading. Niente traditori. Oh, non ti stropisciare tutte le bende. Siamo solo venute per congratularci con te perché sei arrivata alle spiagge scure. Oh, grazie. E per questo siamo disposti a tornare da te. Come? Adesso che la tua squadra è di nuovo forte, vogliamo rientrarci. Ho visto quanto ci tieni ad ottenere il bastone della vittoria. E noi siamo la tua unica occasione per averlo. Hai ragione, Tore Lai. Ho bisogno di voi. Lo dicevi io. No. Per lucidarmi il bastone della vittoria dopo che l'avrò vinto. Come? Non mi riprenderei neanche se foste le ultime gattine viventi sulla Terra. Se adesso mi volete scusare, devo tornare dalla mia squadra. Ti si è appena fatta delle nemiche davvero molto potenti. Faresti proprio bene a guardarti le spalle. Povere gattine frustrate. Ok, ragazzi, ancora una volta dall'inizio. Siamo veramente troppo perfette. Sono le tre squadre migliori. Accedono al prestigioso campo terror leading delle spiagge oscure per le vacanze di primavera per poi andare alla sfida delle mostro finali. Niente può... Ah, Frankie! Forse dovrei dire... Anello debole. Ecco, ho svoltato. Poi avrei dovuto staccare prima di svoltare e poi si è staccata la gamba. Se vuoi smettere di essere in prova per la squadra di terror leading, devi almeno riuscire a ricomporti alla svelta. Guglia, voglio prendere una bebita, ok? Voi continuate a lavorare. Passami quello che ti do questo. Ma mi fa la faccia tutta blu. Ma la tua faccia è blu. Ehi, Frankie, come va con la squadra? Ah, bene. Benissimo, sì. Figurati, Cleo, non ha certo esigente. Oh, dispotica. Oh, silente. Arrocante. Oh, irritante. Va bene, ma è solo perché esige il massimo da noi ed è un bene avere un obiettivo. Sai cosa, D.L.? Mi chiamo Draculaura. La tua spalla va a fuoco. Stai solo facendo finta di non bruciare d'amore per me. Ma aspetta e vedrai. Verrai con me al ballo per il raduno dell'incubo sportivo. Ai! Perché l'hai fatto? Perché tu sogni se pensi che verrai con te. Andiamo. Una doccia fredda è già troppo. It è così tanto fastidioso. Stai iniziando a piacere. Serve un PC con me adesso. Era veramente terribile. Stai scherzando? Quella sequenza era davvero stupenda. Stupenda non è sufficiente. Deve essere perfetta per arrivare alle spiagge oscure. Hai ragione, come al solito. Volevamo farti vedere una nuova sequenza su cui abbiamo lavorato. Guarda qui, lasci qui. Cosa diciamo? Tutto è così? Mogliamo, mogliamo! E sì! Che cosa sarebbe uno scherzo di cattivo gusto? Oh, non è uno scherzo. Il tuo regno del terrore è arrivato al termine. Noi vogliamo far parte della produzione scolastica del fantasma dell'operatorio. È lì che stanno adesso tutte le gattine di classe. Buona fortuna con la nostra finale! Miau! Perché sei ancora qui? Sono così nuova che nessuno mi prende sul serio, tranne te. Ed è per questo che mi applico tanto nel terror leading, per cui io non me ne vado. Perché ci hai messo così tanto? Ehi, dato che sono l'unica rimasta, mi dovrei promuovere a membro della squadra, giusto? Benissimo! Adesso fai parte della squadra. Sì! Tu sei degradata! Andiamo, Gulea, devi andare a lavorare su dei volantini. Ci serve del sangue fresco per la squadra. I provini inizieranno domani mattina. Tutte le ragazze a scuola non vedranno l'ora di entrare a far parte della mia squadra, per cui dobbiamo avere abbastanza moduli di richiesta. 3000 dovrebbero andare bene, stai prendendo nota? E nessuno deve guardarmi direttamente, se non con ammirazione. Preparatevi ad eseguire il mio volere. Ma non posso crederci. Forse sono stata troppo dura con loro. Pensavo di dover essere una guida forte, un capo deciso. Ma ho sbagliato. La prossima volta sarà diverso. Se ci sarà mai una prossima volta. Gulea, ho un'idea. Posso andare a reclutare delle persone per ricostruire la squadra per Clio? Lo so, la Jette pensa che sia una perfezionista, ma quella era la vecchia Clio. Non l'hai vista, è così cambiata. Questa squadra per me significa tutto. È la mia gloria. Squadra Terror Readers, sono disponibili solo tutti i posti. Già. Ehi, Laguna. Mi dispiace, sto nella squadra di nuoto. Sono diventata capitano e voglio sentirti tifare per me. Hai già cambiato idea sul mio invito al ballo? E adesso? No. E adesso? No. E adesso? No. E adesso? Sì, va bene, come ti parlo? Wow, esplosivo! Hai appena detto sì a Hit Bones. Mi hai esasperata, non ne vado fiera. Con chi volevi andare? Non lo so, qualcuno di speciale. Gentile. Atletico. Qualcuno come... Ehi, come va? Ciao, Claude. Qualcuno come Claude. Claude Wolf. No, svegliati, è il fratello di Claude. Allora? Allora. Lo conosco da prima che imparasse a stare a cuccia. Ma ti piace, non è vero? Non è che non mi piaccia, ma ho molto a cui pensare in questo momento. Siamo amici ed è così che mi vedrà sempre. Non se ti unisci a noi? Davvero? Certamente. Ti vedrà come un elemento della squadra. Va bene, ma... Clio? È cambiata. Bene, ci sto. Aiutare Clio? Scusa, sorella, questo osso non lo mordo. Allora immagino che saremo solo io, Draculaura e Clio, dunque. Sarete davvero ridicoli. Incredibile. Tutta la mia vita sociale è finita ancora prima che iniziassi accidenti. Aspetta. Se c'è una cosa vera sui Wolf, è che sono fedele. Dice se è la migliore? Adesso Clio si è rabbonita, vero? Sapevo che avrei ritrovato la squadra e pensare che mi stavo per rabbonire. Aspetta, che cosa? Mettiamo in chiaro le cose. Allenamento tutti i giorni, notte, weekend, otto giorni su sette. Gliel'hai detto, vero? Beh, non è mai... Splendido! Inizieremo alle sei del mattino. Ancora una volta dall'inizio. Ragazze, siete proprio la vergogna dell'arte del terror leading. Per punizione farete il tifa ad ogni competizione scolastica. Sono inferiori a me, ma comunque alla vostra altezza. Uno, due, tre, quattro, un altro passo e scascolato! Due, quattro, sei, otto, la tua regina? Faffaraffa Dottom! Torso, rana, libero, farfalla! Le vinceremo tutte senza palla! Questa arguta e complessa domanda raggiunge il cuore dell'universo del mostro postmoderno. Risposta della Monster High. Allora... Sbagliata è risposta e errata! Mancano sette secondi. Oratore, Monster High. Tutta la gloria a High! Bravo! Vai, vai, vai! Settiri, riuscirei! Ho scoperto che i giudici della spiaggia oscura vengono stasera? Qualcuno vuole attirare la tua attenzione? It Burns. Ignoratelo. Mi piacerebbe tanto se Claude mi guardasse. Scommetto che se facessimo una spettacolosa paura amide con te in cima ti vedrebbe sicuramente. Ragazze, non credo siete pronte per... Ehi! Yuhuu! Salsiccia al sangue! Sono fresca di trasfusione! Sangue! È stato davvero fantastico! Dovevi proprio vedere la tua faccia, sbam! Eccezionale! Penso che alcuni ragazzi abbiano già caricato il video su HorrorTube. Perché ho accettato di andare al raduno dell'incubo con un idiota come te? Non ci andare. Ti ci porto io. Ma sai, gli ho già detto di sì. Ehi, Burns. Ti va bene se ci va con me? Eh, sì, certo, Claude. Voglio dire, come vuoi tu? Allora è deciso. Ci vediamo alle sei. Oh, ok. Allora? Stai andando al ballo con mio fratello, eh? Ehi, capitano, stai bene? No, non sto per niente bene. Mi sento imbarazzata e umiliata. La mia reputazione come capitano della terror è stata macchiata. Non potrei immaginare nulla di peggio. Oh! Ci faremo sentire firmato... Scary Murphy, spiagge oscure. Sì, sì, così! Vai così! Dacci dentro! Andiamo, Claude! Prendete questa bomba! Ciao, sorrellina. Cosa ti è preso? Hai le zecche? Come se non lo sapessi. Perché vorresti portare Draculaura al ballo? Perché Hit stava facendo lo scemo. Ok, Claude. Sì, è a cuccia. Questo è il corso d'addestramento. Da questa parte ci sono i miei amici. Da questa invece c'è la mia famiglia. È così che mi piace. Per cui resta dalla tua parte. Capito? È una delle mie migliori amiche. Per cui se fai qualcosa, qualsiasi cosa, per ferire i suoi sentimenti, ti metterò il guinzaglio per sempre. Capito? Ehi, ritira le zanne, sorellina. Certo, lei è una tipa tosta, ma conosco Draculaura da quando ero un cucciolotto. Ci andiamo come amici, promesso. Campo delle spiagge oscure. Ci faremo sentire. È il grande giorno, eh, Cleo? Gran giorno? Perché? Cos'hai sentito? Ah, niente. Sono entusiasta all'idea della nostra esibizione. Ah, già, giusto. L'esibizione è viva. Lo so che ultimamente le cose non sono andate bene, ma stasera andrà alla grande, vedrai. Non la metti in uniforme? Certo, stavo per farlo proprio adesso. Così si fa, è lo spirito giusto. Solo a dirlo lo fai con più gusto! Ah, ah, ah! Perché, dolcezza, non indossi la divisa da Terror Leader? Ho detto perché non indossi la divisa da Terror Leader. Il raduna è stasera. Non ti senti caricata al massimo? Sì, certo. Stasera sarà una grande serata. Puoi scommetterci entrambi i canini e dobbiamo essere perfette per Cleo. Ok, vai a cambiarti. Vai, 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 vai a cambiarti! Oh, che c'è? Posso chiederti qualcosa dal lupo a vampira? Perché stai andando al ballo con mio fratello? Ti ho fatto per caso qualcosa? Oh, no! È strano, non è vero. Spero che non lo sia. Non volevo essere... Non è strano. Fintanto che ci andate come amici. Giusto? Ma certo che sì. Solo come amici, compagni. Ehi, è un nuovo collare, quello. È molto bello. Solo come amici, chiaro? Sì, sì. Ma che fatica. Non posso più permettermi di andare avanti così. Stasera devo dire a Claude cosa provo. Cleo, non vai a prepararti per l'esibizione? A che serve? Se non entriamo nel campo delle spiagge oscure, questo non avrà più valore. Oh, e dai. Non lo saprai finché non lo sai, no? Per cui smettila di preoccuparti e divertiti. Guarda un po'. Sai, raccolgono fondi per la squadra di football. È una buona causa. Adorabile. Pronto, sono Cleo. Golia, ci sono messaggi? Attenzione al campo studentesco della Master High. Sta per iniziare il radunno dell'incubo sportivo. Oh, tocca quasi a noi. Cleo, lei non si perde mai degli applausi. Ho capito, ci sta mettendo alla prova. Il campo delle spiagge oscure è dietro l'angolo e Cleo vuole vedere se riusciamo a usare la testa per essere pronte ad affrontare qualsiasi problema. Andiamo, allora. Facciamole vedere che abbiamo la stoffa. E adesso il capitano della squadra di nuoto, Laguna. Nella squadra di Vanamasket, il capitano Claude Broth. Cleo sta facendo finta di non vederci. È il suo modo di dirci che siamo noiose. Alziamo un po' il livello. Ehi, ragazze! Non vi affogate per quell'errore. State migliorando tantissimo. Sono sicura che sfonderete al campo terror delle spiagge oscure. Grazie, Laguna. Ehi, non vai a ballare con Jill? Ti sto sorridendo. Davvero? Vorrei non fosse tutto così difficile. Tra amici si può ballare senza problemi. Voglio dire, guarda Draculaura e Claude. Forse è un po' strano. Lo sai, c'era una cosa che volevo proprio dirti. Davvero? Anch'io? Prima tu. Beh, come dire, ci conosciamo da un sacco di tempo. Giusto? E, voglio dire, sei amica di Claudine. E non voglio che sembri tutto strano. Ma da quando tu sei entrata nella squadra... Penso di sapere dove stiamo andando a parare. Tu e io... Stiamo diventando amici fidati. Ma certo che possiamo essere fidanzati. Oh, amici fidati. Certo, assolutamente. Devo andare. Aspetta. Spiagge oscure, stiamo arrivando. Invito non concesso. Adesso tutti insieme. Allora? E mio fratello? Non lo so. Non lo sai davvero? No. Ragazze, abbiamo un problema. L'armadietto di Cleo era spalancato quando sono arrivata. È strano. Non è quella la cosa strana? Guardate questo. Incredibile, ha lasciato il rossetto nell'armadietto. Non si farebbe trovare neanche nel sarcofago senza rossetto. Dobbiamo trovarla. Scommetto che si trovi in palestro a prendere una bibita. Un attimo, so dove cercare. Un pelo del lupo, peggio di quanto credessi. Non avrei mai pensato di vedere Cleo in questo stato? A piangere? No, a pulire. Che ti è successo, Cleo? Te lo dico io, cos'è successo? Anello debole! O forse dovrei dire anelli deboli. Noi? Mi siete costate un invito per il campo vacanza delle spiagge oscure. Abbiamo perso. Mi avete delusa. Hai ragione. Tranne Frankie, poverina, nessuna di noi si è impegnata al massimo. Mi dispiace, Cleo. Ti abbiamo delusa. Ragazze, che cosa fate? È finita. Possiamo ancora farcela ad entrare. Di cosa parli? Ogni anno le spiagge oscure selezionano delle terror leader come squadra jolly. Come jolly? Una qualunque squadra che raggiunga un milione di accessi su HorrorTube si aggiudica un invito automatico. E tu come fai a saperlo? Anche io so delle cose. È scritto sul loro sito. Abbiamo ancora una possibilità. Giulia può fare un video di noi che facciamo acrobazie fantastiche, passi intricatissimi, delle paura amidi. Ma questa è proprio un'idea straordinaria, tranne che per due dettagli insignificanti. Cioè? Primo, la scadenza tra due giorni e non c'è modo di fare un milione di accessi per tempo. E secondo, fate pena! Io non mollo l'osso. Squadra! Sono tanti! Ci vorrà molta dedizione. Pronti! Non sarà così semplice. Ovvio, Cleo! Sarà costretta a gridare più del solito. Qual è la novità? Terror leaders! Terror leaders! Ok, ragazze, questa è per noi l'ultima speranza. Uno, due, tre, quattro, alla spiaggia oscura, cosa c'è? Siamo noi! E' sicuro? Sì! Terror scura! Ne mancano solo 999,999. Sbrigati, voglio vedere quanti accessi ha fatto il nostro video. Già, ieri notte non potevo dormire per l'agitazione. Solo un milione di accessi e andremo al campo a vacanze delle spiagge oscure. Commetto che è già arrivato a 150.000 accessi! Però l'hanno guardato solo in sei! È impossibile, abbiamo avuto un accesso ieri e siamo in sei! Oh, io non l'ho ancora visto. Che c'è? Sono stata impegnata. Pensate che questi brufoli spariscono da soli? Oh, non ci posso credere. Oh, pesciolini, mi dispiace! Forza, ragazze! Non possiamo mollare! E Sito diceva che il termine ultimo era alle tre. È finita! Non è detta l'ultima parola! Ora, sentite, voi mi avete incoraggiata quando avevo perso tutte le speranze e adesso, come vostra grandissima sublime e divina capitana, sarò io ad aiutarvi. L'onora, Gulia, sono in posa carismatica. Nella lezione di crudele economia hanno spiegato come il marketing rende le cose appetibili. Ci sono dei sistemi che possiamo utilizzare per diffondere questo video come la peste. Fidatevi, ragazze. Studente della Monster High, le vostre terror leaders hanno bisogno di voi! Guardate il nostro video! Ditelo ai vostri amici! Beh, non ha funzionato. Non adesso, Gulia. Frankie, fai quella cosa lì. Pronta! Così fanno solo oltre i 15 accessi. Di questo passo arriveremo a un milione dietro circa... Ho un milione di... Oh, sarà un po' troppo vecchia per andare alle spiagge oscure. Non funziona nulla, Clio. Che cosa facciamo? Il tempo sta scadendo. Sto pensando. Oh, oh, ho un'idea! Aspetteremo solo che arrivi una notte di luna piena e poi sarò in grado di... Oh, niente idea. Cosa possiamo fare perché le persone vedono il nostro video e mandino... Oh! Per tutte le bende, che succede? Lo puoi fare. Mettere il video sulla home page di HorrorTube. Dici davvero? Ogni volta che qualcuno clicca sul video darà all'utente la possibilità di mandarlo a tutti nel loro elenco di contatti. È incredibile! Gulia, questa è un'idea fantastica. Perché non ce l'hai detto prima? Non ci posso credere, ci stiamo riuscendo! Manca così poco? Perché si è fermato? No, 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 no! Non può accadere, sul serio! Gulia, fa qualcosa! Io non riesco a vedere che cosa succede. Le ragazze potranno andare alle gare delle spiagge oscure se riescono a raggiungere un milione di accessi su HorrorTube. E ci sono quasi. Ma devono farcela entro le tre. Non mi interessa minimamente, per niente. Perché non sta funzionando? Questa è una vera tragedia! Cosa non sta funzionando? Cosa? Ragazze, non riesco a vedere! Ok, aspettate. C'è scritto che il sito è bloccato! Cosa? Allora adesso nessuno lo vedrà! Manca solo un minuto. Dai, Gulia, dai! Forza, forza, forza! Dai, dai, Gulia, dai! Gulia, dai! Forza, forza, forza! Dai, dai, Gulia, dai! Oh no, sono le tre! È troppo tardi! Oh, che peccato, c'eravamo quasi riuscite. Scusate, devo passare. Permesso? Che mi sono perso? Ragazze, voglio che sappiate quanto sono orgogliosa di tutte voi. Ma così mi fai piangere. Sono seria. Come vi siete unite per far sì che tutto questo fosse possibile? Beh, avete più spirito di qualsiasi altra ragazza della scuola. Questo significa essere una squadra di terror leading. Non sto piangendo, è chiaro. Clio, Clio, guarda qui! Ne parlano sul sito del mostro giornale. HorrorTube ha cresciato per troppo traffico su un unico video. Il tuo! Incredibile! Sapevo che ce l'avreste fatta! 10 milioni di accessi! Ha infronto il record assoluto di HorrorTube! Cosa vuol dire? Abbiamo vinto! Non posso guardare! Cosa dice? Squadra terror leading di Monster High, siete stati ufficialmente invitati a partecipare al campo vacanza delle spiagge Sku! Congratulazioni alla squadra di terror leading della Monster High che è stata appena invitata al campo vacanze delle spiagge oscure. Siete state bravissime! Non ci credo, ragazze, è così eccitante! Non ci posso credere! Devo andare immediatamente a casa a fare i bagagli! Antico snore, domani mi devo portare! Io ho tutto il guardaroba, c'è un limite di bagaglio! Congratulazioni ragazze, sono così contenta per voi! Oh, sei così carina! Ehi, siamo cariche al massimo! Oh, vorrei che venissi con noi! Ma di cosa stai parlando, cara? Vado ogni anno alle spiagge oscure per le vacanze di primavera. Papà dice sempre che hanno il miglior campo subacqueo della barriera corallina. È una cosa davvero pazzesca! Saremo tutte insieme e ci divertiremo assolutamente un mondo! Ok, ragazze al mio tre! Uno, due, tre! Spiagge oscure! Spiagge oscure!